Ciao, sono Valentina, ci troviamo a Roccastrada, località Laratrice Grosseto. Questo è l'impianto di Paolonia Cotevisa 2, è stato impiantato a maggio, i primi di maggio. Adesso le piante sono belle, verdi e è soddisfacente. Sono contento. Quanto hai piantato? Quanti hectari? Sono due ettari, sono 1200 piante. Complimenti. Questa piantazione si deve mantenere così perché la foglia è verde scuro. Manteniamo collegamento insieme perché il business è insieme. Si deve lavorare un po' però la satisfazione è grande, sempre insieme. Ok. Complimenti. Grazie.